Un successo straordinario che deriva da molte componenti. La prima è la capacità di essere prossimi. La lavoro insieme alla CIS l'abbiamo fatto della prossimità, il nostro carattere distintivo, che ha molte declinazioni la prossimità in termini di sedi, di presenza nel territorio. Abbiamo 77 sedi in rete e non ci accontentiamo di avere un numero importante, ma stiamo lavorando ogni giorno per renderle più accoglienti, per accogliere meglio le persone che vengono da noi. Prossimità significa anche la ricerca spasmodica sempre di nuovi servizi per rispondere ai nuovi bisogni che i lavoratori e i pensionati ci chiedono. Servizi anche che abbiano carattere sociale. Faccio soltanto due esempi. L'istanza della busta paga pesante, terremotati, in difficoltà, hanno trovato nella CIS e nella LABOR soggetti che potevano rispondere ai loro bisogni. Ho la possibilità di fare lo SPID. Pensiamo ai molti anziani che hanno necessità di avere lo SPID e da noi hanno la possibilità di farlo. Quindi prossimità come prima caratteristica, l'altra è la collaborazione importante all'interno del sistema CIS, la LABOR che collabora con gli altri servizi e con le categorie, facendo sempre ogni giorno progetti nuovi di proselitismo, di vicinanza ai lavoratori pensionati. Insieme riusciamo a collaborare e raggiungere dei successi importanti per la CIS delle Marche.